Bene, buonasera, eccoci qua, siamo a Ventimiglia, al Palaroia, e ci stiamo preparando per affrontare i Leoni di Tortona. Noi della Pallamano Ventimiglia siamo in testa alla classifica e vogliamo continuare il nostro percorso. Non dobbiamo però sottolineare i nostri avversari, che sono sicuramente una squadra giovane, però di ragazzi che hanno una grande volontà di apprendere e che già all'andata hanno dimostrato di valere. E che, insomma, in questo canzionato stanno facendo un buco a corsa, non si sono prese delle belle soddisfazioni. I nostri ragazzi vogliono continuare quindi, come ho detto, la loro corsa, confermarsi primi e quindi essere leader di questa Serie B, e noi speriamo che ciò possa accadere. Non dobbiamo fare quindi l'errore di prendere sotto gamba l'impegno e quindi di essere all'altezza della situazione. Volemmo ringraziare per questa diretta che stiamo facendo, Riccardo Aplosio, il nostro carissimo minico giornalista di Riviera Sport, che ci permette quindi di tenere aggiornati i nostri tifosi, che sono più garanti. Grazie.